Prima corsa, buon pomeriggio, premio Ambro El Dorado, un miglio per i quattro anni, sono in nove al via, la prima fila per Unique Gar, Apley DCR, Ancol Madiba J-Bay, Urric Pisano, Urus Caff, Ultimo San e Amma Gamma, seconda fila per Ubi Maiorfi e Umberti De Ban. Di galoppo Unique Gar emerge a largo di tutti Amma Gamma che riesce di precisione a scavalcare Urus Caff, la terza posizione è per Apley DCR, a precedere Urric Pisano, Ultimo San, Umberti De Ban e Ubi Maiorfi. Proprio Ubi Maiorfi è il primo a muovere all'esterno dall'ultima posizione. Cerca di risalire il gruppo mentre continua a condurre Amma Gamma che ha graduato e completa i 600 iniziali in 44 e mezzo, ma lo strappo per andare al comando era stato vemente per la cavalla interpretata da Antonio Di Nardo. Seconda posizione sempre per Urus Caff, parziale di metà gara in chiarissimo rallentamento, 1-1-4 per Amma Gamma, confrazione di tutto comodo che consente a Ubi Maiorfi di giungere al salchi di Urus Caff, poi a Apley DCR. Ma ora Amma Gamma comincia a cambiare registro, il chilometro che va via in poco più di 1-16 con Urus Caff sempre incollato alla scia della battistrada, precedere a Apley DCR. Poi ancora Urich Pisano e ultimo San, come si erano messi dal via. Piuttosto vicini i primi quattro all'ingresso e retta d'arrivo con Amma Gamma che insiste nell'allungo nei confronti di Urus Caff, prova a spostare dalla corda a Apley DCR, va per linea interna e Urich Pisano, prova a spostarsi anche a Urus Caff. Amma Gamma in vantaggio, Urus Caff che ci prova a Apley DCR che è minacciata all'interno da Urich Pisano, nel finale trova il barco all'interno, Urich Pisano che rimonta tutti e va a vincere con Marcello Vecchione nei confronti di Urus Caff che aveva avuto la meglio su Amma Gamma in calo alla distanza. Apley DCR quarta a contatto, ma solamente quarta, 1'59,9 sul mio cronometro, che significerebbe media di 1'14,9 per Urich Pisano e Marcello Vecchione, figlio di Nadal Sheba, quarto in corda sul percorso. Ha scelto la via giusta Marcello Vecchione all'ingresso e retta d'arrivo quando hanno allargato prima Urus Caff e poi Apley DCR, lui ha lanciato lungo la corda Urich Pisano che uno dopo l'altro ha rimontato tutti gli avversari, alla fine ha avuto la meglio su Urus Caff che ha piegato la battistrada Amma Gamma. Grazie a tutti.